Eccoci qui con Mastiano Canfus al termine di questa partita dell'Orani contro l'Arborea, un 4-1 finale che ci consente di continuare a sperare attraverso il treno dei play-out. Contenti di questo visito del campionato? Soddisfatti quasi pienamente, diciamo che l'obiettivo era la salvezza e ancora ce la dobbiamo giocare. Oggi abbiamo incontrato una grande squadra, ovviamente le motivazioni in campo erano diverse, quindi loro pur essendo dei giocatori d'alto vivello sicuramente erano demotivati purtroppo dal risultato di domenica scorsa che li ha tagliati fuori dalla zona play-out. Certo, la sconfitta con i bull-tei, è costata a attaccare. No, invece oggi diciamo che ce la dobbiamo giocare. Quindi ho visto grande motivazione e grande impegno da parte di tutti, soprattutto da parte dei giovani. Certo, una bella doppietta di Michele Fadda che ha aperto le danze, la partita si è messa in discesa e poi Antonio Arbao ha fissato il risultato finale. Però bisogna dire che un po' tutti i giocatori sono fatti trovare pronti, anche un ragazzo come Caponigro è stato richiamato. Sì, infatti mi riferivo in particolare a Caponigro che si è fatto trovare pronto e sono molto contento di questo. Questa è la dimostrazione che siamo nella giusta direzione, la direzione è quella di valorizzare i giovani. Infatti a dimostrazione di questo ribadisco il fatto che siamo l'unica squadra che ha giocato per tutto il campionato con almeno tre fuori quota. Assolutamente. Siamo arrivati a giocare anche con 5-6 fuori quota, quindi questa è la dimostrazione che noi puntiamo sui giovani. Ed è loro che devono capire questo impegno della società, loro ci devono credere. Ovviamente stiamo iniziando a raccogliere ciò che abbiamo seminato in questi tre anni. Io mi auguro intanto di arrivare prestissimo alla salvezza definitiva per cui programmare la prossima stagione. Certo. Ecco, questo campionato peraltro ha sancito la vittoria della Corrasi che va in promozione, poi il Bonorva, la Dorrasi andando nei play-off, poi le retrocessioni di Bultei, Montalvo e di Stanese che sono finite direttamente in seconda. Secondo te la classifica rispecchia i valori delle squadre o c'è qualche delusione? Diciamo che rispecchia i valori delle squadre che hanno raggiunto i risultati in zona dell'alta classifica. Forse l'Alborea è stata un tantino penalizzata e ho visto una grande squadra. L'Alborea è una squadra che meritava sicuramente di fare play-off. Sicuramente la Corrasi ha dimostrato di avere giocatori di esperienza e questa è stata l'arma in più che li ha portati sicuramente alla vincita del campionato. La dorgalese non si discute sul lato dell'esperienza e della volontà. Ormai sono già due anni che stanno tentando la scalata. Io gli auguro tra l'altro agli amici di Dorgale di riuscire almeno quest'anno a raggiungere questa meritata promozione. Penso proprio che se la merite. Per chiudere mando un messaggio ai ragazzi in vista di questi play-out che ci vedranno impegnati subito in partite senza appello. Chi vince si salva, chi perde deve continuare a giocare per salvarsi. Bisogna chiuderla subito. La nostra è una grande squadra. Io parlo sia dei dirigenti per l'impegno che ci stanno mettendo sia del pubblico che non ci ha seguito a pieno durante questa annata calcistica. Però sono fiducioso in un buon risultato e sono fiducioso soprattutto per il proseguo del programma di questa società. Dico ai ragazzi di continuare così e sicuramente presto vedremo qualcuno dei nostri giovani giocare sicuramente in squadre di categoria superiore, più consone a loro. Un grosso in bocca al lupo a tutti e un ringraziamento a chi ci sostiene, che ci sta sostenendo e chi ci sostiene per il futuro. Certo, certo. Un appello a tutti i tifosi a seguire la squadra nella prossima decisiva partita del campionato. Forza Urani! E' un invito per entrare a far parte di questa grande squadra. Ti assicuro che nonostante gli sforzi rimane sempre un divertimento. Assolutamente. Noi andiamo a rappresentare tutti assieme il paese, il nostro grande paese. Certo, certo. E soprattutto una squadra fatta ai giovani, sì, c'è il largo ai giovani. Chi più di voi lo sta facendo, assolutamente. E grazie anche a te, Priamo, che sei sempre number one. Grazie a Bastiano e in bocca al lupo. Ciao!